Ecco altre 10 brevi curiosità che sicuramente ti piaceranno. 11. Non so se lo sapevi, ma dal 1441 al 1826 è esistita nell'Italia di allora la Repubblica di Cospaia. Ne eri a conoscenza? Devi sapere che la nascita della Repubblica di Cospaia fu dovuta a causa di un errore di delimitazione dei confini tra lo Stato Pontificio e il Gran Ducato di Toscana, che semplicemente la esclusero. Col motto, Perpetua e sicura libertà, in quella zona lunga circa 2 chilometri e larga 500 metri, gli abitanti vissero per ben quattro secoli al di fuori e oltre le leggi e le tasse, perché a detta di tutti era troppo insignificante e quindi uno spreco di soldi e di truppe conquistarla. Fu poi nel 1826 che la Repubblica si sottomise allo Stato Pontificio e sparì. 12. Sapevi che ciò che fa diventare una mela marrone è l'enzima della tirosinasi, ma sapevi che si tratta dello stesso enzima che permette a noi di abbronzarci? Questo perché la tirosinasi consente lo sviluppo della melanina che determina la colorazione di pelle, occhi e anche dei capelli di ogni persona. Sai la mancanza della tirosinasi cosa comporta? L'albinismo. 13. Credo che tutti quanti sappiamo cosa sia un formato MP3, in ogni caso si tratta del formato audio più utilizzato per memorizzare e condividere qualsiasi contenuto sonoro. Ad oggi esistono numerose canzoni in questo formato, ma sai qual è stata la prima canzone ad essere convertita in MP3? La canzone si intitola, Tom's Diner, ed è cantata dalla cantautrice statunitense Susan Vega. 14. protagonista del film Il monello di Charlie Chaplin. Quello che devi anche sapere è un'altra cosa. La sua fama lo portò a guadagnare parecchio fin da ragazzo, ma purtroppo quei soldi vennero per lo più sperperati dalla madre e dal suo nuovo compagno, in quanto Jackie era comunque minorenne. Ma quando compì 24 anni, Jackie fece causa alla madre. Tale situazione fece così scalpore che per evitare altre situazioni simili nello stato della California nacque il Cougan Act, che prende quindi il suo nome e che va a proteggere i guadagni dei bambini minorenni, prevedendo che il 15% della paga finisca in un conto intestato direttamente agli attori minorenni, insieme alla possibilità di vedere garantita loro l'istruzione e le ferie. Se ti sta piacendo il video mettilo in pausa, lascia un mi piace e condividilo, aiuterai a far crescere questo canale. 15. Molto probabilmente sai chi è Charles Darwin, l'autore della famosa teoria sull'evoluzione delle specie, ma forse non sai che si dice che prima di sposarsi fece una vera e propria lista di pro e contro del matrimonio per decidere se fosse conveniente o meno sposarsi. Tra i pro c'era che la sposa in ogni caso è meglio di un cane. 16. Alcuni di voi ricorderanno lo sfondo del sistema operativo Windows XP di Microsoft. Una verde collina su un cielo blu e bianche nuvole, che però per motivi di copyright non posso farvi vedere, in ogni caso spero che ce l'avete presente. Devi sapere che si tratta di un paesaggio realmente esistente e che si trova nella Wine County in California. Inoltre, se mai ti fosse venuta questa supposizione, devi sapere che si tratta di una fotografia non ritoccata e che venne scattata da Charles Aurier nel gennaio del 1996 che Microsoft ne acquistò i diritti nel 2000. Quindi, prova anche te a fotografare qualcosa, chissà un giorno qualcuno potrebbe sempre chiamarti. 17. Da diversi ritrovamenti, si è scoperto che fu l'uomo habilis a parlare per primo. Infatti si sono ritrovate nel cervello quelle aree che sono predisposte al linguaggio, che ovviamente non si trattava del linguaggio come quello che abbiamo al momento, ma in ogni caso si potevano cominciare a sentire una o due sillabe. E sai che tutto sembra sia derivato dai gesti? Che poi con le continue trasformazioni, necessità, stabilità sociali e progressi intellettuali si è poi sempre di più evoluto. 18. Nel 1998, il principe Carlo d'Inghilterra avrebbe scoperto di avere una discendenza con un personaggio molto particolare. Sembrerebbe infatti essere un discendente del conte Vlad III Tepes, conosciuto anche come il conte Dracula, re della Transilvania in Romania, diventato famoso grazie al romanzo di Bram Stoker del 1897. Se vuoi sapere altre curiosità, clicca su iscriviti e scopriremo insieme altre fantastiche curiosità. 19. Sembrerà strano ma è tutto vero. Siamo in America nella città di San Francisco e l'anno è il 1859, quando un senzatetto di nome Joshua Abram Norton si proclamò addirittura imperatore degli Stati Uniti d'America e poi anche protettore del Messico con un atto, una lettera scritta ai giornali. Joshua Abram Norton era un imprenditore facoltoso che nacque a Londra, ma che visse per lo più a San Francisco. Tuttavia, a causa di un investimento sbagliato e di una causa in tribunale persa diventa povero. Entrato in confusione, comincia ad avere una sua visione sulla giustizia e sulla politica americana e da qui decide di scrivere quella lettera. Ma se i giornali ignorarono il nuovo particolare editto, il giornale locale di San Francisco pubblicò la lettera ma a scopo satirico. Norton I, questo era il nome ufficiale cominciò a girare per le strade indossando un uniforme degna del suo prestigio e acquistò sempre di più paradossalmente una notorietà tale da essere addirittura riverito dalla popolazione, che a lui spesso si rivolgeva per consigli come se fosse realmente un re, e stando a quanto si dice, non era visto come il solito matto che gira per le città, ma anzi era una persona istruita e che si faceva volere bene da tutta la popolazione, tanto che spesso veniva salutato dai poliziotti, ospitato nelle case, invitato nei ristoranti senza pagare praticamente mai nulla, nemmeno l'autobus, o addirittura venne difeso quando un poliziotto lo voleva far rinchiudere in un centro che trattava di malattie e disturbi mentali, ma ancora più eccezionale fu che quando morì si dice che ai suoi funerali parteciparono più di 30.000 persone. Come ultima curiosità su questo personaggio devi sapere che lo scrittore Mark Twain, che abitava vicino a lui caratterizzerà il personaggio del re del suo romanzo Le avventure di Huckleberry Finn, basandosi proprio su Norton. Questa è la lettera scritta da Norton I. A perentoria richiesta e desiderio di una larga maggioranza di questi Stati Uniti, io, Joshua Norton, un tempo cittadino di Algoa Bay, capo di Buona Speranza, e oggi e per gli ultimi scorsi nove anni e dieci mesi cittadino di San Francisco, California, dichiaro e proclamo me stesso imperatore di questi Stati Uniti. E in virtù dell'autorità in tal modo acquisita, con la presente ordino ai rappresentanti dei diversi stati dell'Unione di riunirsi in assemblea presso il Music Hall di questa città, in data 1 febbraio prossimo venturo, e lì procedere alla modifica delle leggi esistenti dell'Unione al fine di correggere i mali sotto i quali questa nazione si trova ad operare, e in tal modo ripristinare la fiducia sia in patria che all'estero nell'esistenza della nostra stabilità e integrità. Norton I, imperatore degli Stati Uniti. 20. Oltre ad essere l'inizio dell'anno, il 1 gennaio si celebra il giorno del pubblico dominio, che consente di non chiedere nessuna autorizzazione agli eredi per una qualsiasi opera. Devi sapere che nella maggior parte dei paesi, in generale il diritto d'autore cessa dopo il settantesimo anno dalla morte dell'autore stesso, ma negli Stati Uniti ne occorrono 95 dalla pubblicazione dell'opera. Grazie per essere arrivato fino a qui. Quale di queste curiosità ti ha colpito di più? Scrivilo nei commenti, e se ti è piaciuto questo video e hai scoperto qualcosa di nuovo, metti un mi piace, iscriviti e attiva la campanella per essere sempre aggiornato. Il mondo è pieno di curiosità, scopriamole insieme. Turn it back Turn it back